Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video vi insegnerò a scaricare video da Twitch Esistono vari metodi, il primo metodo è sicuramente quello tradizionale, quindi andate nel canale Twitch Andate su Video Producer, se il video naturalmente è il vostro, quindi se il canale è il vostro Cliccate sui tre puntini, cliccate su Scarica In questo modo però dovete attendere che Twitch elabori la richiesta e poi vi permetta il download Però in questo caso potete scaricare un video per volta e solo nel vostro canale Se volete scaricare invece video da altri canali, esiste un software gratuito chiamato Twitch Leacher Che potete scaricare tramite il link che vi riporto nella descrizione di questo video Twitch Leacher vi permette di scaricare anche più video Twitch per volta, come potete vedere Quindi andiamo ad esempio su Video Producer e apriamo un video a caso Naturalmente questo discorso può essere fatto su qualsiasi canale Dovete semplicemente copiare il link del video, quindi andate qui e lo incollate Adesso lo faccio con diversi video, in questo modo vi do la possibilità di vedere che è possibile scaricare più video per volta Ok, clicchiamo su Search Attendiamo La procedura naturalmente richiede diverso tempo a seconda dei video E quindi qui potete scaricare il video cliccando su Download, scegliendo la qualità, il percorso, il nome e così via dicendo E poi cliccando su Download Quindi potete scaricare tutti i video che volete e ve li ritroverete direttamente qui dentro Naturalmente questo discorso può essere fatto soltanto se il canale è aperto Cioè se il proprietario del canale permette di vedere i video senza abbonamento In questo modo potete anche scaricarli attraverso questo software Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming E per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento